Ciao a tutti, tornati sul canale. Oggi trattiamo di fantasmi. Quella che vi sto per raccontare è una mia esperienza personale. Partiamo subito, dunque. Molti anni fa sono andata in visita al castello di Suave, a Verona. Tutto ciò che è antico, che sa di storia, a me attira come i raggi della luna attirano una falena. Ero sempre con la mia vecchia macchina fotografica analogica in mano per fotografare qualunque cosa distasse la mia attenzione. E quindi mi sono messa un po' a fotografare di tutto. Ero anche una bambina che veniva proprio, non so, attirata dalle energie. Di sicuro non ero consapevole per nulla di cosa sarei poi diventata da adulta. Però, davvero, come vi ho anche raccontato in altri video, ci sono stati degli episodi, tanti episodi, nella mia infanzia che dimostravano proprio quanto io venissi anche direzionata verso il contatto di spiriti, di energie. E quel giorno ho sentito, durante la visita al castello, una specie di richiamo. Praticamente era la forza attrattiva di quello che poi avrei scoperto si trattasse, un'impronta spettrale. Sono entrata in questa stanza. Era una stanza lunga, un grande armadio e delle sedie. C'erano anche altre persone lì, ma quello che ho visto io non l'ha visto nessun altro. C'era una figura, una figura di un uomo dalla lunga e folta barba, che era seduto proprio su una sedia accanto all'armadio. Era però seduto in modo molto particolare e anche il suo sguardo era abbastanza strano. Aveva un'espressione di estremo sconforto, come di angoscia. Sembrava quasi che in quel momento lui si fosse sentito preso da un'infinita tristezza, come se avesse subito un trauma e quindi si fosse seduto per riuscire a, in questo modo, calmarsi o trovare la chiarezza perduta. La posizione era veramente in effetti strana, perché quando l'ho visto io, era seduto con il busto girato da una parte e le gambe dall'altra, come se in quell'attimo si fosse registrata, questa sua grande potenza emotiva, in movimento. Era una cosa che non mi era mai successo prima. Ne ho visti di spiriti, e lo sapete, ma una cosa così era particolare. Non saprei dire chi fosse in realtà, mi piacerebbe scoprirlo. Però non sono mai più tornata lì e quindi sono passati davvero tanti anni, perché in fondo io ero una bambina. C'è un'altra cosa molto particolare. Dopo aver sentito la sua presenza e visto, intravisto comunque la sua figura, gli ho scattato una fotografia. Il problema è che non ce l'ho più da tantissimi anni, e per una valida ragione. Io quella fotografia la spedì poi al programma Mistero, perché, non lo so, lo seguivo e quindi pensavo davvero potesse aiutarmi a indagare sulla vicenda, scoprire il perché, c'era un'impronta spettrale, magari di chi, perché si sentiva tutta quella tristezza profonda, che cosa era accaduto a quell'anima. Invece, la risposta di Mistero distrusse tutte le mie speranze, perché disse che io avevo imbrogliato, che la fotografia era stata a mano messa, e che quindi non potevano aiutarmi in alcun modo, perché avevo posizionato un bambino su quella sedia. Tutto questo perché la fotografia rispecchiava quello che io avevo visto con i miei occhi, e cioè una vera figura. Certo, di sicuro non sembrava affatto in carne ed ossa, sembrava appunto fatta di luce, era un po' trasparente, vi posso dire. Non era come altri spiriti che ho visto, che si vedono come se fossero proprio incarnati, come se fossero persone reali, ancora in vita. No, ma è questa anche una delle caratteristiche delle impronte spettrali. Le impronte spettrali differiscono dai veri e propri fantasmi per una semplicissima ragione, quella che vi ho spiegato, ovvero che non sono realmente spiriti lì, con la loro coscienza. È soltanto la registrazione energetica di ciò che loro hanno provato in un dato momento della loro vita. Di solito un momento dunque drammatico, che ti coglie davvero in una situazione emotiva molto forte, talmente forte da rimanere come impronta nell'energia, e poter essere captata tanto la sua intensità di vibrazione nel tempo, addirittura a distanza di secoli. Dunque, io ho iniziato le mie ricerche perché anche se io non posso andare, non significa che magari qualcuno voglia collaborare con me a distanza e andare in missione a controllare, appunto vedere un po' se anche lui o lei riescono appunto a cogliere l'essenza di quel momento psichico così forte di quella persona e comprendere di più quindi sull'accaduto. Sono andata a ricercare su internet per saperne di più su chi poteva essere. Io l'ho visto bene, era proprio un uomo di mezza età se non oltre. Aveva un aspetto fiero, ma anche se davvero devastato. Questo potrebbe essere comunque indice di chiunque nel castello, non per forza doveva essere il proprietario. Con quell'aspetto fiero. Ognuno può avere un aspetto di quel genere e sentirsi appunto potenti nella propria vita e nella propria persona. Quindi non potevo saltare a conclusioni, sono andata a cercare. E questo dice sui proprietari. Il dominio privato del castello di Soave. Allora, per linea di donne il castello passa agli eredi della famiglia Gritti, dai quali nel 1830 lo acquista l'avvocato Antonio Cristani. Nonno materno di Giulio Camuzzoni, bisnonno dell'attuale proprietaria. Allora, io questo vi posso dire da come era vestito. Non era del 1800, era sicuramente di prima. E questo fa doppiamente rimanere di stucco al pensiero. Allora, cavoli, quel suo dolore che io ho visto doveva essere veramente molto potente per durare così tanto nei secoli. Allora, gli abiti dunque erano antecedenti al 1800, come ho detto. E sono andata a cercare. Il castello di Soave è una tipica costruzione militare del Medioevo. Sorge sul monte Tenda e domina la vasta pianura sottostante, coprendo un'area di 5882 metri quadrati. Allora, l'origine di questa mole turrita risale all'Alto Medioevo e sorge forse sulle rovine di un antico fortilizio romano, una rocca. Sto leggendo qui nel comune di Soave.it. Lotte assai aspre si accesero spesso per il suo possesso. Eccone qualche notizia. Nel 1338, Rolando De Rossi da Parma, generale dei Veneziani, messa a suo quadro la terra suavesi, si impadronì del castello. Dopo breve ma streno a lotta, nella quale perirono 400 soldati scaligeri, fu ripreso da Massino II della Scala. Cansignorio del 1379 restaurò il castello e ci insedì Muraverlate il paese. Spentasi la gloriosa dinastia scaligera, il 18 ottobre 1387 Soave passò ai Visconti di Milano e quindi ai Carrara, signori di Padova. Costoro lo perdettero nel 1405, ad opera di Galeazzo Gonzaga, che con l'aiuto degli abitanti vi instaurò il dominio della Repubblica di Venezia, la quale ebbe a dichiarare «Roccia su api, sottilissima nostro dominio». Nel 1439 Soave subì nuovamente l'assalto e la conquista dei Visconti. Passò quindi agli alleati della Lega di Cambrai nel 1508, contro Venezia e ospitò l'imperatore Massimiliano. In questo periodo la terra di Soave fu teatro di aspre lotte e di scontri sanguinosi. Il castello e il paese vennero incendiati e 366 soavesi passati a fil di spada. L'eroismo del capitano Rangone e degli abitanti liberò nel 1511 il castello dai nemici di Venezia. Nel 1517 il paese venne simbolicamente consegnato al provveditore veneziano Andrea Gritti, non ancora eletto doge. Ok, ci fu un lungo periodo di pace che durò quasi tre secoli fino a Napoleone Bonaparte nel 1796. Nel 1556 la famiglia Gritti divenne la proprietaria del castello. Il rogito formale dell'acquisto del castello fu fatto però solamente nel 1696, il quale perse in seguito di importanza e fu trasformato in fattoria. Da questo stato di rovinoso abbandono venne risollevato e ristaurato nel 1889. Quindi, in tutto questo, io quello che ho percepito vi posso dire era come se davvero ci fosse un disastro. O era personale. Potrebbe davvero essere comunque un trauma dato da una lotta, una guerra. D'altronde, quindi, questo castello di Soavea, veramente, ne ha viste di tutti i colori nella storia. Vedremo insieme adesso se ci sono delle immagini di queste persone. Quindi andiamo a vedere subito. Allora, da quello che vedo, scartiamo subito Andrea Gritti. Non è lui. C'era una cosa che mi ricordo oltre la folta barba e la barba era molto più lunga di quella di Andrea Gritti e il naso, il naso era veramente grande. Non era come il suo. Assolutamente no. Vediamo qualcun altro. Sì. Gian Galeazzo Visconti No. No. No, 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 no. Per niente. Io l'ho visto proprio bene in faccia, quindi lo saprei riconoscere. Magari non ve lo so di scrivere a parole, però assolutamente sì. Poi che abbiamo? Mastino Secondo. Mastino Secondo della scala, devo dire, ha qualcosa di familiare. Non è lui, ma ci assomiglia. Can Grande Secondo della scala. No. Per niente. No, assolutamente neanche Can Grande. Allora, vediamo ora. Mastino Primo. Oh, cavoli. Mastino Primo è della scala. Oh, cavoli, l'ho trovato. È proprio lui. Assolutamente lui. Lo stesso sguardo, la stessa faccia, gli stessi occhi. Cavoli. Ma quindi aveva sempre la faccia corrucciata così? Ok. Mi ricordo benissimo questo sguardo. Ed era proprio il suo. Non pensavo di trovarlo. Veramente da tanti anni che ci pensavo, ma non mi sono mai messa lì a ricercarli tutti, in effetti, eh? Non pensavo neanche di trovarlo così in fretta, in realtà. Ma cavoli. Se è lui. Cosa potrebbe essergli accaduto? Io non lo so. Vediamo un po'. C'è qualche cosa che ci è stata riportata nei racconti della storia che lo riguarda, che potrebbe far intendere cosa gli sia accaduto. Mastino I della Scala. Leonardino della Scala, detto Mastino I, è stato un condottiero italiano appartenente al casato veronese dei della Scala. Figlio di Iacopino della Scala, fu podestà dei Cerea e di Verona nel 1259. Eh sì, si parla di tanto tempo fa qui. La tradizione locale lo indicò sempre come un capo di origini modeste, discendenti da un ramo della famiglia che professava il mestiere del mercante. E modesto era anche il suo modo di comportarsi. Egli si faceva vedere tra il popolo. Si sentiva un uomo del popolo, eletto dal popolo per il popolo. Tuttavia non si deve pensare che Mastino conducesse una vita umile sotto la tirannia ezeliniana. Infatti un documento accerta che egli era vassallo di Santa Maria in organo. O possedendo qualche appezzamento del territorio di quel monastero, inoltre fu podestà di Cerea. Con alle spalle tutte la ricchezza accumulata negli anni dei commerci di lana della famiglia. Salito al potere non si definì mai come il signore della città, ma piuttosto come il suo protettore. Per dimostrare il suo amore verso la popolazione infatti si fece affidare la carica di capitano del popolo e non del comune. Ma cosa c'entra con il castello di Soave? Perché io l'ho visto lì. Cause della morte e assassinato. Bene. Fantastico. Il 26 ottobre 1277. Il 26 ottobre Mastino della Scala venne assassinato a tradimento assieme al fido Antonio Nogarola. La maggior parte delle fonti indica come assassini Isnard De Scaramelli, un esponente della famiglia Pigozzo e forse degli esponenti della famiglia Spallino. Altre fonti, tuttavia poco attendibili storicamente, mostrano Alberto congiurare contro il fratello per usurparne il posto e farlo uccidere di notte. Questa ultima ipotesi sembra irreale dal momento che Alberto avrebbe comunque ereditato la carica di Mastino e che aveva da lui ricevuto larghi riconoscimenti politici. Interessante. Nel 1271 si ebbe la conquista da parte di Mastino I della Scala. Non per forza però quell'impronta spettrale che io ho visto e fotografato rappresentava il momento suo ultimo della morte. Assolutamente no. Potrebbe essere stato qualche altro momento. Magari lui sapeva. Sapeva appunto che sarebbe stato ucciso. Allora ragazzi, io sono veramente molto contenta oggi di essere finalmente riuscita a dare un nome a quel volto. Ma la cosa non finisce qui. Lasciatemi un like se vi è piaciuto questo, se vi interessa. E per supportarmi naturalmente iscrivetevi a questo canale accendendo la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle prossime pubblicazioni. Grazie.